Ferragosto in campo con i preliminari della stagione 2017-2018 della Champions League, in quella che sarà l'ultima annata per l'esclusiva su Mediaset Premium. Al debutto con lo studio live di Premium Champions, c'è Eleonora Boy che affiancherà Sandro Sabatini in un programma che alterna interviste, gol della serata, commenti degli ospiti e i commenti a caldo ai protagonisti della manifestazione per i club più importante in Europa e più seguita nel mondo. Eleonora Boy è la nuova giornalista sportiva pronta a dividere lo strapotere mediatico acquisito da Diletta Leotta nelle ultime due stagioni su Sky, nel programma dedicato alla Serie B. Martedì sera si sono giocate le prime cinque gare d'andata che potranno assicurare alle squadre la qualificazione e i gironi di Champions League. Si è giocato il match tra il Liverpool di Salah e l'Openheim di Kramarik. Tra le altre partite spiccano anche Sporting Lisbona Steau e Bukarest e Young Boys Xca Mosca, mentre mercoledì il Supermatch tra Napoli e Nizza. Tutte le partite saranno visibili, a partire dalle 20.45, su Premium Sport anche in modalità diretta Champions League. Chi se ne frega!